Buonasera a tutti, adesso vediamo insieme come accedere a Classroom con il vostro account con il dominio della scuola e consegnare dei compiti che vi sono stati appunto dati dalla vostra insegnante. Come prima cosa, se siete dal vostro smartphone o dal tablet, bisogna scaricare l'app di Classroom che è quella che vedete con la scritta appunto Classroom di colore verde con il contorno giallo. Io ci clicco sopra e vado ad inserire da questo menu a tendina l'account con il quale voglio collegarmi. In questo caso voi dovete scegliere l'account che vi è stato dato dalla scuola. Vedete, qui in alto dovete appunto vedere, intravedere il vostro account. Clicco quindi su Corsi e a questo punto, in questo caso, mi appare il mio corso, quindi il corso di cui già faccio parte come studente. Se invece voi non ancora siete registrati a nessun corso, basta andare qui in alto a destra, cliccare sulla X, sul simbolo e inserire il codice che vi è stato fornito dalla vostra insegnante. A questo punto cliccate in alto su Iscriviti e il gioco è fatto. Quello che vedrete è la vostra classe. Una volta iscritti al corso, cliccate sulla classe. In questo caso io clicco su Lettere seconda A, che è appunto il corso di cui faccio parte per fare la prova con voi. Ci clicco e vedo un po' di cose che sono state pubblicate. In basso potete vedere che leggete tre cose diverse. Abbiamo Stream, abbiamo Lavori e abbiamo Persone. Andiamo subito su Persone. Su Persone trovate tutti i vostri compagni di classe e gli insegnanti. Sul Lavori invece andate a vedere tutti i lavori che i vostri insegnanti pubblicano. C'è qui, come potete vedere, testo poetico, dove si tratta praticamente, se ci clicco sopra, un po' di materiale che l'insegnante ha pubblicato appunto sul testo poetico. Ecco, ci sono tre firmati, c'è una consegna e delle indicazioni. Se clicco invece qui, Antologia e il testo poetico, vi faccio vedere la consegna che è stata data dall'insegnante. Dopo aver studiato con attenzione le video-lezioni presenti in materiali di studio, che sono quelle che abbiamo visto poco fa, studiare e completare da pagina tot e tot. Allegare il lavoro svolto nella consegna. Come faccio ad allegare il mio lavoro? Bene. Come potete vedere, qui in basso c'è questa freccia. Se io ci clicco sopra, qui vediamo che il lavoro di questo alunno è stato già consegnato. Mettiamo che io lo ritiro. Ecco, lo tolgo così vi faccio vedere come dovete fare. E voglio consegnare di nuovo. Vedete, questo è quello che voi vedete. C'è la possibilità di aggiungere l'allegato, nel caso in cui voi vogliate fare la foto ai vostri libri, oppure allegare invece un file di Word, un PowerPoint, un filmato, una qualsiasi cosa. Bene, io clicco su aggiungi allegato e posso scegliere se allegare un file di Drive, un link, scattare una foto. In questo caso io clicco su File. Voglio caricare, appunto, diciamo questa è un'immagine che io voglio caricare, oppure un PDF, oppure un filmato. Io clicco in questo caso su un'immagine e diciamo che ho fotografato il mio libro, quindi voglio consegnare alla professoressa la foto degli esercizi che ho svolto. Oppure, come detto prima, posso caricare qualsiasi tipo di file che è presente sul mio smartphone, o sul mio tablet, o anche sul computer, perché è molto simile quello che c'è da fare. Posso qui, vedete dove c'è commenti privati, posso anche aggiungere un commento alla professoressa, magari se qualcosa non vi è chiaro, se avete bisogno di ulteriori spiegazioni, o comunque semplicemente se volete comunicare che è tutto chiaro, che avete eseguito il compito. Io scrivo, appunto, compito eseguito. E quindi inviate anche un messaggino alla professoressa cliccando, appunto, su questa freccia che volge verso destra. Io faccio così, clicco. Il compito è stato eseguito, lo voglio consegnare, vado su Consegna, adesso i miei allegati sono tutti pronti, e li invio alla professoressa. Questo è quanto, insomma, questo è tutto ciò che bisogna fare per consegnare un compito su Google Classroom. Grazie, alla prossima!